Benvenuti nel mio canale, io sono Anna, e in questo video ti svelerò una breve anticipazioni della sop la promessa. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Il patto di Pelaio e la Marchesa. Un amore inaspettato. Pelaio fece un patto con la Marchesa. Si sarebbe innamorato di Catalina. L'avrebbe sposata e insieme avrebbero lasciato la promesa. Tuttavia, ciò su cui il conte Daniel non contava era che si innamorasse davvero della figlia del Marchese. Il risveglio dei sentimenti di Catalina. Catalina ha riflettuto molto sui suoi sentimenti nei confronti di Pelaio, e ha deciso di fare il grande passo. La mia vita è cambiata radicalmente da quando sei arrivato alla promesa, è stato in meglio. Ora mi sento realizzata, soddisfatta, orgogliosa di me stessa, ed è grazie a te. Mi sento molto a mio agio con te e non voglio rinunciarvi. Ti amo, Pelaio. Ti amo con tutta l'anima. I segreti nascosti e le verità svelate. Pelaio decide finalmente di raccontare a Catalina parte della verità sul pericolo che corrono quando stringono affari con un trafficante inglese. Mentre indagherà sul passato di suo marito, Catalina rimarrà sorpresa quando scoprirà i segreti del suo grande amore. Ma questo non è l'unico segreto di Pelaio. È un trafficante d'armi. L'arrivo di Ieronimo, complice sotto copertura. Alla promesa arriva Ieronimo, il nuovo personaggio che si finge cameriere del conte. La sua presenza solleva diversi interrogativi. Riusciranno a nascondere le mercanzie nel palazzo senza essere scoperti? Catalina sospetterà le vere intenzioni del nuovo cameriere di Pelaio? Dovremo attendere i prossimi capitoli per scoprire come procede la trama di questo personaggio intrigante e quale destino attende Pelaio e Catalina?